felice venerdì pomeriggio a tutti da marcus allora ambatta contata può far convergere più numeri su una ruota stessa la risposta è sì perché già l'altra volta vi ho fatto vedere che addirittura una quaterna si è formata con più abbinamenti e poi innanzitutto anche con il 90 lascia al segno lasciate stare il 90 lascia al segno parliamo solo di ambatta contata io voglio utilizzare ambatta contata per far arrivare i numeri dove dico io e può succedere veramente di tutto allora adesso poi ci sono altre cose che vi faccio vedere incredibili perché è troppo importante vedere questo aspetto allora ieri abbiamo detto che è uscito il 76 con la ventina su venezia 76 29 28 io ho messo anche il 67 perché adesso ci arriviamo con ambatta contata vedrete che tutto quello per logica che ho sempre vi ho sempre detto va a finire nella risposta che poi porta questi risultati allora mi chiedo posso far arrivare più numeri nella stessa ruota sì ci vuole un po di pazienza mettersi mettersi lì a tavolino e tentare di vedere quali numeri non sono ancora arrivati nell'arco di 7 8 9 colpi su quella ruota quindi vediamo che il 76 è arrivato come vertibile perché il numero chiave sarebbe stato di 67 quindi attenzione a queste cose qua perché può arrivare il vertibile io ve l'ho sempre detto non solo sarebbe da giocare quello che arriva il numero stesso ma anche il suo vertibile addirittura qua è arrivato sia il 67 che il 76 col 29 e il 28 il 28 ho fatto la calda il calcolo ma non è arrivato su venezia quello un numero che è uscito così dovrò fare poi l'analisi del 56 io adesso sto facendo il video per farvi vedere come si sta sviluppando la previsione allora ieri 67 76 29 vediamo dove è uscito dove è arrivato il 29 8 di ottobre milano seconda posizione ma riparti dalla prima 1 2 3 4 e 5 quindi 5 10 15 20 25 26 27 28 29 in teoria o il 29 o il 22 qui nella quarta o come è stato semplice o su bari e venezia 22 29 22 29 allora 1 2 3 4 al quarto colpo già 29 venezia 5 6 7 8 9 quindi il 29 dopo 9 colpi è arrivato su venezia guardate qualcosa c'è ma adesso ci arriviamo allora 9 colpi sono differenti vedete ognuno qua si parte dal 17 ottobre e qua si era partito dall'8 di ottobre quindi le date non c'entrano c'entrano i numeri che devono cadere su quella ruota e non sono ancora usciti 67 17 ottobre qua il 67 già sulla prima posizione non serve neanche riportarlo indietro e si fa 1 2 3 4 5 poi 5 10 15 e 20 ruota nazionale la saltata 25 30 35 40 45 50 55 60 65 66 67 67 67 o 76 venezia bari ruote gemelle non fate confusione con il 90 la sansegno il 67 è arrivato sia come numero stesso sia come avvertibile ma c'è anche il 29 allora è vero allora è vero è già più di una volta che vi faccio vedere che più numeri possono arrivare sulla ruota stessa ecco che allora ogni numero è spia di se stesso allora vedete che le cose che vi dico sono vere più di una volta più di una volta vi ho detto questa frase qui e 67 doveva uscire con il 29 ma c'è anche 76 è uscito anche avvertibile quindi una bella giocata è arrivata in 9 colpi ritardo del 29 e totale 29 colpi con il 67 di palermo che è arrivato in 1 2 ah tra l'altro è arrivato anche 76 vedete allora abbiamo detto 1 2 3 4 5 5 colpi 5 del 67 e 9 del 29 guardate che roba dopo si mettono insieme quindi 67 e 76 29 terno a venezia e allora se 67 di ripartiamo di qua scusate se 67 di palermo porta il 67 a venezia che l'ha dato ieri dopo 5 colpi e allora adesso dobbiamo aspettarci che Bari dia il 67 perché è la sua gemella quindi il 67 è a Bari ma adesso potrebbe uscire su Bari poi c'è la condizione guardate qui eh c'è la condizione con Bari e Genova somma x2 67 quindi 67 che cosa 34 34 che combinazione qua abbiamo su Genova che va riflessa su Bari cioè su Venezia ma si riflette poi su Bari quindi abbiamo 67 34 ancora forte su Bari quindi si è dimostrato che a bata contata ancora una volta è uno spettacolo ma non è finita qui non è finita qui primo di ottobre allora il 3 e il 5 su Torino il primo di ottobre esce il 3 e il 5 guardate eh 1 2 3 il 3 rimane su Torino 5 1 2 3 4 5 il 5 rimane su Torino ma che cosa dobbiamo aspettarci allora che il 3 o il 5 o il 30 o il 50 possa risortire su Torino ma anche su Cagliari questi due numeri sono rimasti quindi su Torino o escono qui o escono su Cagliari il discorso per Maila è stato questo quindi il 22 è portato al 20 al 20 perché mi dava la condizione 20 col 2 o il 20 sul 22 a Cagliari però adesso quella è una cosa a parte allora 3 e 5 Torino vi ho detto sempre i numeretti sono quelli più forti 3 e 5 quindi 1 2 3 si rimane qua 5 si ritorna indietro 1 2 3 4 5 quindi 3 e 5 rimangono incastrati sulla ruota di Torino quindi o 3 o 5 o 30 e 50 su Torino o 3 o 5 o 30 e 50 su Cagliari andiamo a vedere 1 2 3 4 5 6 sesto colpo 5 e 3 su Cagliari i numeri che si sono incastrati su Torino si sono riflettuti sulla sua gemella Cagliari quindi ambo secco 3 e 5 dei numeretti perché il 3 e il 5 erano su Torino e più di lì non sono usciti perché se il 3 o se fosse stato un 6 o un 7 uscivano quindi sicuramente uno sta pensando ma c'è anche l'8 qua quindi 5 6 7 8 magari 3 5 8 poteva uscire su Torino allora noi aggiungiamo anche l'8 e vediamo cosa succede quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 in teoria però vedete che se ne è una ruota stessa si ripetono poi sulla sua successiva ecco perché vi sto dicendo 67 a Venezia 67 a Bari attenzione quel 67 perché potrebbe arrivare col 34 quindi 67 su Bari allora ripetiamo con l'8 allora 5 6 7 8 Torino 8 e 80 qui 8 e 80 Cagliari 1 2 3 4 5 Torino esce l'8 senza il 3 e il 5 ma esce vediamo un po' un attimino eccolo qua esce 3 5 andiamo avanti vediamo se è uscito ancora qualcos'altro di nuovo 5 e niente vi discorrendo allora quindi ambata contata si è rivelata sempre vincente è arrivato il 29 il 76 e 67 proprio ieri da una previsione non molto lontana che dava il 29 a Venezia e poi il 67 o 76 su Venezia si sono riuniti ecco perché vi dico guardate che questo sistema può far allineare uno più numeri sulla stessa ruota a distanza anche di qualche estrazione differenti da una dall'altra allora adesso vediamo se ci fosse stato il 56 io ho già controllato allora il 56 non c'è che arriva sulla ruota di Venezia però il 22 di ottobre c'è il 65 perché bisogna calcolare sarebbe da calcolarlo anche con il vertibile però vediamo allora 65 quindi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 o 65 56 su Venezia infatti scusate che mi è caduto tutto infatti il 56 è arrivato proprio insieme al 29 76 però sotto forma di 56 vedete vedete come si collegano i numeri eppure il 56 ovvero il 65 era su Roma col calcolo è arrivato su Venezia ma si è trasformato in 56 bene ragazzi allora continuiamo questo famoso 76 su Torino la ventina vi ripeto comambata contata non ancora dato su Torino manca l'appello il 23 il 24 il 26 il 27 il 76 speriamo veramente che faccia il suo colpo e il suo esito finalmente su Torino questo è quello che vi posso dire poi c'è anche Bari con 67 e 34 quindi 34 63 34 67 e 34 68 riunita 34 67 68 e 63 gli ambi più forti su Torino sono 76 e 26 e 76 e 23 questi due ambi sono fortissimi ve lo ripeto e su Bari 34 67 e 23 e 23 e 23 e 26 e 26 e 23 ambi separati oppure ambo eterno insieme ragazzi ci risentiamo speriamo in bene poi se non esce il 76 il 34 fino a giovedì prossimo poi basta sperando che esca qualcosa ok? se esce poi stoppiamo tutto vi abbraccio sempre vostro amico marcus ciao a tutti mi raccomando iscrivetevi e attivate sempre la campanellina per essere avvisati del nuovo video ok? un abbraccio grazie a tutti marcus